bentornati sul canale oggi vi porto lo spellicolamento e lo descatolamento ho detto in inglese per quelli bravi unboxing del pavo mini drone detto anche pavo pico chi è chi lo ma pavo nano insomma questo nuovo giocattolino di casa beta andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola io ho comprato la versione per air unit di gaio 3 chiaramente perché quelle o il mio sistema prevede di utilizzare quel tipo di camere so che ci sono anche so ve lo do per certo c'è anche il modello sempre uguale a lui però per la versione walk snail quindi un altro tipo di vtx cambia semplicemente l'alloggiamento della camera andiamo ad aprire la scatola è di quello di qualità come vedete effetto ventosa all'interno troviamo le antenne per essere montata sulla o3 troviamo delle eliche di ricambio un becca 5 volts per l'alimentazione ed un connettore per il collegamento ovviamente tutti accessori inerenti al collegamento della dji o3 una batteria di serie da 450 miliampere 2s la lasciamo qui un portafiltri sempre per la cam della dji o3 infine ecco qui il nostro bel dronetto il drone arriva già assemblato per quanto riguarda le sue parti di io quindi tutta la parte integrata per quanto riguarda flight controller e desk in un'unica soluzione come beta più di una volta ci ha abituati queste eliche sono veramente piccole monta una tbs crossfire con un'antenna veramente microscopica cioè notare la dimensione di questa antenna notare è una cosa veramente impressionante all'interno poi arrivano due telaietti uno di scorta e uno da montare sopra che alloggerà presumo che vada montato così poi vedremo un attimino l'istruzione lo vedremo eventualmente montato finito dove viene montata alloggiamento della o3 e la sua cam qui sull'anteriore vediamo che cosa ne viene fuori qui all'interno abbiamo il classico qr code per le istruzioni e quant'altro vediamo all'interno a questo punto del sacchetto che cosa c'è qui abbiamo come ho detto prima eliche di ricambi un cavetto probabilmente deve essere collegata allo 3 un cavetto usb c ma credo che questo sia un cavetto visto le dimensioni per poter andare a programmare eventualmente il fly controller al 99 per cento infatti abbiamo un connettore usb c da una parte è un connettore proprietario comunque di quelli standard che sicuramente andrà a incastrarsi sul flight controller da qualche parte che vediamo se riusciamo a trovarlo esattamente eccolo qui come potete vedere qui c'è un alloggiamento non so se si vede bene comunque questo connettore viene inserito all'interno e poi tramite betaflight andremo a fare le varie regolazioni pd parametri settare la radio e quel che si vuole le quattro eliche eccole qui veramente microscopiche sembrano quelle dei droni giocattolo quelli cinesi peccatissi da 5 euro al discount all'interno dell'altra bustina abbiamo esatto abbiamo le due le due micro antenne che andranno a sostituire quello originale della dji o3 che come sapete anche se c'è un antenna all'interno sono due le antenne anche se sembra una dall'esterno poi abbiamo dei gommini e delle viti di fissaggio che fanno sempre comodo poi abbiamo un sembra un parasole per la cam o3 e poi vari accessori per il montaggio del del sistema digitale direi che questo è tutto per quanto riguarda l'unboxing di questo oggetto io quando l'ho comprato ho preso anche due batterie visto che sono particolari che altro hanno l'attacco particolare ho preso altre due batterie in modo da far durare di più il volo e vediamo una volta che ho assemblato tutto come è venuto come volerà e soprattutto le impressioni di volo vi aspetto in un prossimo video datemi il tempo di organizzare il tutto e ci rivediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti